via cocco dei ragazzi siamo tornati su warframe nella terza puntata ok se vedete che la mappa è uguale, se non mi sbaglio è uguale a quella di prima vero? simile più o meno si perchè in questo gioco le mappe sono uguali ma la missione è totalmente diversa bisogna... c'è un altro obiettivo rompre in culo a tutti un saluto a te chizago ovviamente michele devo salutare perchè non tu meriti ma che cazzo è quella cosa? già vedo dove devo correre la mappa in segno ok scatronia e scendi di dopo ci vedo fortissima sicari te l'ho detto ce l'ho pure guarda fammi compagnia le compagnie stagione rende eh sti grazie non ci metti io devo poter non si cambiarla con i nomi non si cambiarla con i nomi e non ciò mi accorgio mori mori brutto sfonso sfonso esplodi è che non volevo dire non lo abbiamo abbiamo mostrato strada no bisogna ammazzare tutti bisogna ammazzare tutti ah si dobbiamo sterminare tipo alla grande pastorette con il merda che ruba tutto ok questo gioco a questa missione esterminio praticamente si dobbiamo fare di tipo la hit è la sede dominion su cod terza guerra mondiale pratica io onestamente no ora sono qua sopra il camper se riesco ma non ce l'ho fatta perchè la c'è bimbo ma ci si rispetta al mio ahhh cosa hai visto un MOA ah non è una mappa no non c'è il MOA non c'è un assassino vado avanti a mare a prendermi tutti danni perchè c'è un pezzo di sterco eh t'ho visto non è vero c'è che mi curia anche quando c'è niente se chiamano però oh u u u u u io sono anche qui dove si andare però non fa niente u 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 ti u u u u U u nel mondo via di a distanza l'invito che faccia c'è la scarus e di ammela critiche come il film come la merda a fare la riserva che io è velocissimo come la dh cazzo che mi spada guarda che critici che lancio ok sali stronzo un contene amica in merda se trattanti sti grazie non ho mai detto bravo grazie grazie ma la tua vita tutti e tre la cosa costo soccorre spettarmi che aveva visto a distruggere quel cazzo di voto 8 prevedere poi la cazzo di fai te non mi cazzo di farare la sicurezza certo io io veloce 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 la girata salendo grazie che l'onimus mi ha staccato un'altra era sicuramente una critica un contene faccio io un container si ma che cazzo è ma questo non è la chiede la tende la cazzo è la chiede i fantasmi di la chiede del ritorno 2 percorso no c bari d facettare andrea ctc smontarono computer qua penso che ero scoprò che da facci bello colpo del gruppo scusami la giocistica dico 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 e la cosa mi è chiamato ecco lì ecco no ma ma con te stronzi 3 2 continuare 1 1 ora via io ma se non c'è manco dove cazzo è di sotto l'assegna subito appunto finiti diciamo il punto di estrazione no vai il primo euro lecidica e questo è l'assistente ma lecidica ci sono crediti qua migliori non mi spocca di continuità 1 uuuu l'acquado con il supersalto uuuu eiii supercavoli andiamo no cicciolo da mostrare uno ma lindy uuuu 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 l'ultima che devo fare il più figo di tutti uuuu 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 un'altra volta ehi la aah oh livello 8 questi cazzo ai 2 io ciò nel 2007 proprio fatto ora comunque ragazzi il video finisce qua se vi è piaciuto scrivetevi commentate mi piace ballate saltate e vi iscrivetevi soprattutto al canale di Michele anche se non ce l'ha e ecco i zig zag ciao a tutti i zig zag ciao ciao